Pesaro, capitale italiana della cultura 2024, presenta la prossima stagione di Prosa, su iniziativa del Comune di Pesaro, con l'AMAT e con il contributo di Regione Marche e Ministero della Cultura. Al Teatro Rossini, dal 12 al 15 ottobre, Forte e Chiara, con la regia di Alessandro Federico, di e con Chiara Francini. Forte e Chiara è un memoir, un racconto umano, vivo e rivoluzionario. Un one woman show, in cui Chiara Francini ripercorre la sua vita, unica eppure così simile a quella di tanti altri.